Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ufficializzato il ritorno in giallo-rosso di Pierotti, discorso di Capitanzani, intervista con mister Calvi e col vicepresidente Mannu, per il basket la Mercedes ha scelto il nuovo allenatore. Ben ritrovati con l'informazione su Catalan TV. Come avete sentito dai titoli del nostro sommario, resta in primo piano il problema dei rifiuti e della sporcizia in città. Siamo davanti ad un quasi allarme sanitario rispetto a quella che è la condizione delle aree in città, dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Tra liquami e miasmi l'aria è ammorbata dal fettore derivante dai raccoglitori, situazione a limite anche per quanto riguarda la sporcizia e intanto intervento dell'amministrazione per le deiezioni canine. Sarà il caldo eccezionale, saranno alcuni problemi tra dipendenti e azienda, sarà il recente passaggio dal commissario alla nuova amministrazione, sarà quel che sarà, come diceva una nota canzone, ma mai come questa estate la città è stata sporca. Sembra un ritornello senza fine, ma nostro, malgrado, è la verità. Ultima è lamentarsi alcune mamme e nonne che portano in giro col passeggino i propri pargoli. Ebbene, il loro percorso sta diventando una gincana con curve molto larghe rispetto all'ubicazione dei cassonetti. L'odore insopportabile e l'aria malsana che circonda i contenitori dei rifiuti sta diventando un vero e proprio allarme sanitario. Per questo, come detto, chi si trova a dover transitare nei paraggi degli stalli dedicati alla raccolta dei rifiuti, è costretto, se non riesce a cambiare percorso, a subire un fettore nauseabondo che ammorba l'aria. Discorso simile per quanto riguarda gli automezzi utilizzati per il servizio. Il loro tragitto è caratterizzato dall'emanazione di una scia puzzolente che si propaga in tutta la città. E' inutile ripetere che questa non può essere la cartolina di Alghero e che però residenti e turisti si trovano a dover subire questa vergognosa condizione. Ed è altrettanto inutile appellarsi al fatto che l'appalto per la raccolta dei rifiuti è in scadenza e dunque il nuovo sarà fatto meglio. Il problema esiste oggi. Alghero non può attendere i tempi della politica. L'assessorato comunale competente deve intervenire al più presto per sanare questa situazione ed evitare che peggiori ulteriormente. Continuano le segnalazioni e le lamentele rispetto alla condizione della città di Alghero in quest'estate. Come detto a cassonetti malodoranti e la presenza massiccia di escrementi di cani sui marciapiedi fa infuriare residenti e turisti che chiedono interventi immediati. Non si contano ormai più le segnalazioni che giungono alla nostra redazione per descrivere lo stato di alcuni luoghi cittadini. Alghero è sporca. I cassonetti sono stracolmi di buste fino a sera. Chi deve intervenire? Ma anche l'odore che proviene dai contenitori per i rifiuti è davvero insopportabile. Questo ciò che ci viene riferito per quanto riguarda la situazione della pulizia e decoro in città. A lamentarsi non solo gli algheresi ma anche i turisti che reclamano pulizia. Non è la prima volta che ci occupiamo di questo problema. Certo è che in quest'estate è uno dei temi che sta facendo più discutere, soprattutto infuriare residenti e non. In alcune zone, in special modo nelle pinette, come più volte documentato, la sporcizia e l'incuria è frutto della mala educazione e della mancanza totale di rispetto da parte di molti che scambiano queste aree verdi per un ecocentro e che dopo le giornate trascorse al mare abbandonano buste di mondezza ai piedi di alberi o dove capita. Altro problema che sta facendo discutere è quello delle deiezioni canine. In diverse vie gli abitanti lamentano la presenza degli escrementi, la poca curanza dei padroni e le numerose lamentelle segnalazioni agli uffici competenti ha fatto sì che l'amministrazione comunale intervenisse usando il pugno duro visto il problema di igiene ambientale non certo trascurabile. Da qualche giorno infatti gli addetti della Polizia Municipale in Borghese stanno effettuando controlli mirati in tutta la città. Il loro compito è quello di sanzionare le violazioni. In pochi giorni, fanno sapere da Sant'Anna, le multe elevate sono state numerose, ogni inosservanza al riguardo è punita con una sanzione amministrativa di 50 euro. In base al regolamento comunale per la tutela degli animali d'affezione, chi controlla può contestare non solo la mancata raccolta degli escrementi ma anche la mancata esibizione da parte dei proprietari dell'apposita attrezzatura, paletta ed involucro per la raccolta. Tanti sorrisi e divertimento giovedì sera a Luna Park, ma a Terlande non poteva essere diversamente. Questo che si tratta di un luogo dove si condividono allegrie e gioia, ma quello che ha reso speciale il giovedì della Giostra è stata l'iniziativa dell'assessorato ai servizi sociali che insieme alla proprietà del Parco dei Divertimenti ha voluto organizzare una serata dedicata agli anziani e alle persone diversamente abili. La partecipazione è stata numerosa anche da parte delle associazioni che ogni giorno sono in prima linea a sostegno di coloro che hanno maggiore necessità. Dunque è stato positivamente accolto l'invito fatto dall'assessore Romina Caula, presente giovedì insieme al sindaco Lubrano ad altri componenti dell'amministrazione comunale. Un momento di condivisione e integrazione sociale che rientra all'interno del programma di miglioramento della qualità della vita degli anziani ed inclusione e integrazione sociale nel settore della disabilità e della salute mentale. Coloro che hanno partecipato hanno voluto compiere i giri sulle varie attrazioni dell'Una Park, messe gratuitamente a disposizione dalla Matterland. E l'assessorato ai servizi sociali comunica che i cittadini interessati possono richiedere l'esenzione del pagamento del ticket per la fruizione dei servizi mensa e scuolabus per l'anno scolastico 2012-2013. Ascoltate. L'assessorato ai servizi sociali comunica che i cittadini interessati possono richiedere l'esenzione dal pagamento del ticket per la fruizione del servizio mensa e del servizio scuolabus per l'anno scolastico 2012-2013. Possono beneficiare dell'esenzione gli alunni appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche in seguito a valutazione del componente servizio sociale. Per poter usufruire dell'esenzione occorre presentare apposita richiesta, secondo il modulo predisposto, presso l'assessorato ai servizi sociali del comune di Alghero in Viale della Resistenza dal 27 agosto e dentro e non oltre il giorno 17 settembre, nei giorni dal martedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e nei pomeriggi del martedì e del mercoledì dalle 15.30 alle 17.00, prima preso un appuntamento con le assistenti sociali. Gli interessati al momento della presentazione della domanda dovranno produrre pena la nullità della richiesta, la documentazione come l'attestazione ISER è data sulla base del reddito 2011, il verbale di invalidità a componenti del nucleo familiare. Gli interessati possono prenotare l'appuntamento personalmente o telefonando allo 079 99 78 570. Ieri negli uffici di Sant'Anna del comune di Alghero è stato presentato ai giornalisti il programma della Conferenza Europea sulla percezione visiva ACPV che si terrà dal 1 al 6 settembre all'hotel Carlos Quinto. Sono intervenuti tra gli altri il rettore Atilio Mastino, il sindaco Stefano Lubrano e il professor Bain Giopinna, organizzatore dell'evento. L'ACVP, European Conference on Visual Perception, è il più prestigioso appuntamento internazionale dedicato alla scienza della visione, finalizzato alla comprensione del sistema visivo umano e animale. L'ACVP si tiene annualmente in diverse sedi europee, al cui interno operano università, dipartimenti e laboratori con riconosciuto valore internazionale. La scelta della sede avviene almeno due anni prima del suo svolgimento attraverso una rigorosa selezione da parte di un comitato scientifico internazionale. L'ultima edizione della conferenza si è svolta a Toulouse in Francia, l'anno precedente a Lausanne in Svizzera. Dunque, come detto, l'evento si iterrà dal 1 al 6 settembre presso l'hotel Carlos Quinto ad Alghero. E proseguiranno ancora oggi e domani i festeggiamenti nel quartiere di Sant'Agostino. Intanto, evento atteso è quello di questa sera con il concerto del cantante Valerio Scano, che alle 22 salirà sul palco. Intanto, nel pomeriggio, numerosi appuntamenti dedicati ai bambini. Nell'ambito dell'iniziativa Un quartiere in gioco si comincerà alle 17. Domani poi giornata dedicata alle funzioni religiose. La mattina, Santa Messa alle 10, nella chiesa di Sant'Agostino. Alle 18.30 invece è prevista la processione per le vie del quartiere, alla quale parteciperanno anche diverse associazioni, anche a cavallo, che accompagneranno il simulacro del Santo, a rientro la Santa Messa. Alle 21, l'estrazione dei premi della Lotteria di Sant'Agostino 2012. A seguire, la Gruppa Sio dei Voluntariati Cantors Musits dell'Alghè terrà un concerto Cançons de Casa Nostra. Al termine proseguirà l'estrazione dei premi della Lotteria. Ed ora diamo la linea alla regia per la pubblicità tra poco.